bentorni bentornati subì sapiens siamo qui con un nuovo dialogo a me gianandrea giacoma e gianluca bocchi si prosegue con questa riflessione negli ultimi 500 anni della cultura occidentale sotto la spinta della rivoluzione scientifica vedendo nelle ricadute sia anche dal punto di vista non solo culturale scientifico ma anche psicologico ed esistenziale ed è un po quello su cui proveremo a soffermarci in questo video seguendo in questi dialoghi la sintesi molto densa che ci ha fatto gianluca io un po con la mia sensibilità psicologica un po semplicemente come essere umano che si interroga come come tutti e anche per la mia interesse per le questioni legate al disagio esistenziale mi sono segnato quattro punti che mi sono sembrati un po una specie di fil rouge rispetto a come l'essere umano negli ultimi 500 anni in occidente ha usato in modo costruttivo vitale o anche invece rigido più ideologico e dogmatico i grandi cambiamenti culturali e scientifici che sono avvenuti elenco velocemente questi quattro punti però poi con gianluca li vediamo proviamo a vedere la sua opinione uno per uno perché altrimenti viene poi tutto sovrapposto il primo punto che mi è sembrato appunto un fil rouge è il bisogno di certezze per ridurre l'angoscia esistenziale e per consolare spesso questo è risolto dal dogma religioso ma anche da un certo tipo di ideologia di uso della scienza della politica poi ci torniamo su il secondo punto è un bisogno di prevedibilità per ridurre l'ansia dell'incertezza delle questioni pratiche tipo tecniche come può andare raccolto prevedere il tempo e altre questioni di cui si è occupata la scienza e l'ingegneria potenziata degli ultimi 500 anni terzo punto lo svelamento che tendenzialmente come esseri umani antropologicamente mediamente tendiamo più a cercare la sicurezza che la verità in una dimensione relazionale più l'aver ragione che faticosamente insieme arrivare a uno spicchio maggiore di quella che sembrerebbe verità e quarto punto è l'ipotesi ovviamente una delusione delle capacità morali e psicologiche delle figure di leadership che ci sono susseguite nel passato non pensando solo le figure più importanti anche proprio nella difficoltà dell'essere umano ad assumerci ad assumersi certe responsabilità ecco queste mi sembrano un po delle tematiche trasversali che hanno psichicamente ed esistenzialmente plasmato poi anche la storia delle idee la storia della scienza la storia della politica storia della religione ultimi 500 anni tornando dal punto 1 cosa ne pensi quando io intravedo un bisogno di certezze per ridurre l'angoscia esistenziare e per consolare beh allora questo punto dobbiamo di nuovo far riferimento a certe cose che abbiamo detto nei video precedenti ma fa bene anche delle ripetizioni da questo punto di vista perché bisogna enfatizzare il fatto che che l'origine della scienza moderna quindi l'origine della storia che stiamo raccontando avviene in un periodo di grave crisi soprattutto del contesto europeo no in cui operavano poi persone fondatrici no come eh Descartes oppure eh Keplero Galileo e poi gli inglesi no allora un'età che messa in crisi e dalle guerre di religione infatti abbiamo detto quanto Cartesio sia stato influenzato dalla dalla particolare guerra di religione che avveniva in Francia tra cattolici e protestanti ma adesso c'è un po' ancora di più perché la storia globale ci dice delle cose interessanti non è uscito recentemente un testo che per ora c'è solo in tedesco ma speriamo usciva presto anche in italiano di questo Behringer che è uno studioso del clima che legge l'età la storia globale dell'età moderna dando anche uno spazio alle questioni climatiche allora che cosa succede succede che nel 1600 in una situazione eh del pianeta che stava già andando verso il raffreddamento quindi una una situazione in cui il clima eh era eh come dire eh sfavorevole e questo voleva dire eh eh annate sfavorevoli voleva dire mortalità eh notevolissima perché poi si campava dei raccolti improvvisamente nel 1600 scoppia un vulcano in Peru che si chiama Unaiputuina questo non importa che abbassa per anni la temperatura nel pianeta no ora lì ci sono delle coordinazioni particolari per cui ad esempio no la vita politica della Russia che in quegli anni è sconvolta è sconvolta anche perché sembra che muoia un terzo degli abitanti della Russia per ragioni climatiche e un po' in tutta Europa anche se non si riescono a capire le cause c'è veramente mh questo dilagare della malinconia anche da parte dei regnanti si dice addirittura che è un'età in cui la pazzia è eh qualcosa di abbastanza diffuso anche nelle classi dirigenti oppure comunque l'impotenza no? Allora non dobbiamo fare delle relazioni molto nette però questi anni il 1609 il 1610 sono gli anni del trionfo del copernicanesimo no? Con Keplero e con Galileo che danno eh tra l'altro delle versioni che poi si integrano no? Ma diciamo Galileo eh da più delle versioni sul piano sperimentale e eh che plevo le dà più sulla matematizzazione comunque questa è una storia che hanno analizzato in tanti no? Allora ci sono due componenti che sono eh che rendono questa cosa ambivalente no? Eh cioè da un lato anche la sofferenza delle persone coinvolte che quindi vanno in cerca di di un punto fermo per andare avanti noi sappiamo no che quanto Keplero soffrì per le le guerre di religione eh Galileo in qualche modo andò incontro a delle difficoltà col papa ma fu fino a un certo punto più privilegiato e forse fu salvato anche eh dall'accusa di eresia per cui il suo processo è stata una sorta di protezione comunque hanno avuto sicuramente una vita non diciamo difficile ma difficile per i tempi. L'altro aspetto è appunto la speranza di potersi basare su qualcosa di nuovo che potesse poi col tempo servire anche come punto di riferimento non solo elitario ma collettivo no? E eh quindi chiaramente sta sta lì l'aspetto della grande vitalità di queste persone no? Che tra l'altro detto fra parentesi erano estremamente versati nella metafisica no? Semmai voglio dire che Keplero è un caso eccellente di grande eh personaggio scientifico anche matematizzatore che però come Newton considerava la parte metafisica e se vogliamo alchemica del suo essere quella fondamentale no? Quindi in questi casi non c'è alcuna rimozione diciamo così delle dimensioni metafisiche no? Ma c'è anzi un tentativo che poi spesso non funziona no? Di di integrare dimensioni così diverse come eh poi succede in Newton. Che cosa eh succede no? Eh dopo che eh in qualche modo hanno avuto veramente tanto successo per securizzare eh non solo l'elite ma poi anche le persone in generale no? Voglio dire i padri fondatori della scienza moderna eh di fronte al mistero eh venivano illustrati assolutamente bene l'atteggiamento dell'idea di Newton che diceva eh che a me sembra un ragazzino eh che fa i castelli di sabbia sulla eh sulla spiaggia e di fronte a me c'è l'oceano eh eh inesplorato della conoscenza che tra l'altro è molto legato anche a quello che sappiamo eh della grande scoperta di Newton stesso la gravità perché lui ha descritto come funziona la gravità ma sulla natura della gravità ha lasciato assolutamente aperte le cose tanto che sono estremamente aperte anche adesso no? Quindi noi abbiamo un messaggio ambivalente dei padri fondatori no? Che eh in fin dei conti rimane molto critico eh rispetto alla loro attitudine no? Perché loro erano consapevoli di di aprire un mondo nuovo ma di fare anche tanti tentativi no? Purtroppo questo messaggio eh che è in se stesso rassicurante come dire sì siamo in un mondo che non non viene compreso abbiamo tantissimi a che fare col mistero però in qualche modo no? Abbiamo il coraggio di andare avanti ed esplorare no? Quindi è un atteggiamento assolutamente valido che poi ovviamente comportava delle semplificazioni anche ardite no? Perché al momento eh non erano disponibili tante conoscenze e non erano disponibili tante tecnologie no? Quindi questa fase storica è assolutamente ambivalente e tra l'altro l'abbiamo detto no? Non non si stacca tanto dalla teologia no? Perché figuriamoci l'aspetto non tutti erano così mistici come eh Kepler o Newton però anche un personaggio molto pragmatico come Galileo cioè non era ateo no? Anche se alcuni gesuiti lo volevano accusare di ateismo però non è mai stato accusato eh di ateismo eh di avere fatto affermazioni incaute cose del genere no? Allora detto questo noi ci rendiamo conto perché c'è una rottura invece fortissima nella tradizione moderna quando la scienza diventa eh una questione eh una questione non solo di elite ma diventa organizzata dagli stati nazionali no? All'inizio dell'ottocento i quali mettono in primo piano l'aspetto tecnologico e manipolatorio della scienza o se vogliamo del sapere umano. Allora te sai benissimo ne abbiamo già detto eh che io ho un atteggiamento molto friendly nei confronti della tecnologia non la demonizzo assolutamente però siamo qui impegnati per trovare un legame costruttivo tra la tecnologia e lo sviluppo umano. Ora qual è il problema per quello eh il contributo di Michael Gilchrist sui due cervelli lo ritengo sui due emisferi cerebrali lo ritengo illuminante perché l'aspetto tecnologico degli umani la capacità delle manipolazioni eh è una parte fondante della della identità umana se no non manipoleremo dal tempo degli australopitechi ma non è l'unica e quindi al di là della topologia che può essere anche un po' semplificante dei due emisferi noi abbiamo una storia molto produttiva di manipolazione che non è per cui l'unica storia possibile perché ripeto la manipolazione ha bisogno di certezze no perché se noi dobbiamo andare a agire nei confronti di un ambiente ostile noi dobbiamo eh avere anche delle capacità di reazione immediate senza porre in discussione le nostre strategie ma sul lungo periodo abbiamo bisogno anche di manipolare queste ehm di monitorare queste strategie e di elaborare anche la comprensione che il mondo non è riducibile a questo no allora che cosa voglio dire dopo nei prossimi video anche oggi cercheremo di dare delle risposte ma il tentativo attuale di uscire fuori da questi vincoli e in questo caso dell'ossessione della certezza è di una ricomprensione della ricchezza dell'umano in molteplici dimensioni cioè al di là della neurologia ma noi non siamo le singole proiezioni storiche che hanno prevalso in certi periodi soprattutto in occidente eccetera eccetera noi siamo di più noi siamo evolutivi allora è interessante che ci siano dei tentativi che non dico che siano eh come dire finali sono iniziali per ridare eh una sorta di empowerment all'essere umano che viene deve essere accettato nella sua ricchezza e anche nella sua conflittualità e nella sua contraddittorietà sì ehm quello che colpisce che poi ha avuto il suo apice come dici tu nell'ottocento mh perché se andiamo a vedere i padri fondatori filosofici e scientifici della rivoluzione della modernità occidentale cercavano con le loro ambiguità con le difficoltà del caso di conciliare la dimensione esistenziale e la dimensione di consistenziale per non di spirituale religiosa per avere un linguaggio più laico no esistenziale con quella voglio dire le cose si rimandano ecco esatto no ma era giusto per per chiarire eh rispetto a quella che hai accennato tu cioè smetto di fare i conti col disagio esistenziale che in realtà tanto mi condiziona lo lo rimuovo lo chiudo in cantina faccio finta che non esista e occupo la mia quotidianità la mia mente nel potenziare la capacità di manipolazione prevedibilità un po come se stessi come se avessimo sostituito l'ansia di incertezza che fa parte della vita e non è che non bisogna affrontarla ingegneristicamente scientificamente e tecnicamente e socialmente ma non può andare a sostituire quella che è l'angoscia esistenziale cioè bisogno di certezza pratica non è il sostituto del bisogno di fare i conti con l'angoscia esistenziale un po la sensazione che si è stata illusoriamente perché poi è ritornata fuori questa necessità di confrontarsi con che cosa possiamo cambiare mistero per essere sempre con un linguaggio più laico con il mistero dell'esserci della mortalità dell'incertezza del dolore della difficoltà a dare un senso non alle piccole cose quotidiane ma al tutto quello di cui si è sempre occupato l'essere umano da quando è incominciato ad avere una sufficiente capacità di autocoscienza ok sicuramente come dici tu supportata dalla drammaticità dei tempi passati in cui era facilissimo morire in cui c'era un sacco di violenza in cui il clima non ha aiutato e probabilmente anche perché la struttura tradizionale gerarchica politica religiosa piramidale del passato era stata alla fine deludente no perché poi uno si può come dicevo affidare anche a delle ai dei leader o anche semplicemente nel piccolo della quotidianità delle figure di riferimento ma spesso si accorge di come noi umani facciamo fatica ad essere guida di noi stessi guida anche per gli altri in questa mare di incertezza quindi non è questione di sguazzare nell'incertezza per il gusto di non avere punti riferimento noi abbiamo bisogno di punti riferimento la questione è non riuscire a tollerare la frustrazione in modo tale da non mantenere quel sano equilibrio sul loro del caos cioè sviluppando una filosofia ma se vogliamo anche una metafisica che sia un'apertura al mistero e non sia una chiusura perché quello che prevale noi è bisogno di certezze anche se parlate infine pur di avere quella certezza ci raccontiamo una mezza bugia no ecco beh io credo che siccome oggi parliamo magari riassumiamo delle cose ma per andare avanti no allora io credo che oggi diciamo non dico dalla scienza no ma dalla cultura in generale che poi dialoga con la scienza no però vengono fuori due aspetti che sono stati sottovalutati e che sono invece riducibili della condizione umana e con cui bisogna fare i conti no il primo è la limitatezza ma la limitatezza di ogni singolo individuo ma anche dell'umanità nel suo complesso no perché rendiamoci conto no se no perché mi interesso così tanto ma proprio dal punto di vista filosofico delle ricerche sulla vita aliena no che sicuramente ci sono dei problemi tecnici cioè vedremo come quando riusciremo a scoprirla no e tante cose del genere però quello che abbiamo scoperto nella cosmologia degli ultimi trent'anni è la numerosità oserei dire enorme no dei mondi e la varietà dei mondi dell'universo no dico mondi nel senso anche di pianeti che possono o non possono ospitare la vita no e qui ci rendiamo conto quanto la specie umana ha una capacità cognitiva eccellente ma è un infinitesimo anzi un infini infinitesimo rispetto alle possibilità dell'universo l'altra cosa ovviamente è che l'esistenza di un singolo individuo è un infinitesimo anche quello rispetto alla totalità dell'esperienza umana nel passato nel presente nel futuro no e che quindi puoi essere un individuo molto creatore però i tuoi pensieri sono solo una piccolissima parte di tutto ciò che viene verrà pensato no allora perché dico questo che è una scoperta decisiva perché questa limitatezza che in qualche modo per dirla col poeta ci dispaura sia a livello individuale che a livello collettivo è anche una nostra forza perché noi saremo limitatissimi come specie non riusciamo a cogliere dell'universo se non pochi attimi però quelli che cogliamo cioè il rapporto che noi abbiamo con quella che possiamo definire natura cosmo è molto costruttivo e produttivo cioè la nostra storia di abitazione del cosmo è limitata e periferica ignora un numero di possibilità infinito ma è valida vitale continua andare avanti no allora questo discorso sulla limitatezza umana che è una forza è qualcosa che dovrebbe valere anche per l'individuazione singolare cioè ogni individuo è schiacciato dalla pluralità delle dimensioni sociali tecnologiche cognitive del mondo ma la sua esperienza singolare è unica e ripetibile e quindi ogni individuo ha un valore unico e ripetibile nella costruzione dell'umanità è un punto di vista limitato limitante tutto quello che vuoi ma che ha un valore in sé proprio nella sua unicità nella sua creatività questa è una presa di coscienza necessaria ma che cosa succede 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 che molte volte non c'è il passaggio dal valore del limite in senso diciamo banale in senso più negativo che viene considerato a questo valore del limite per cui da qui nasce il nichilismo che però prende la forma particolare di fuga in certe dimensioni collettive che non ti fanno prendere ti fanno dimenticare la responsabilità e l'ambivalenza dell'essere di fronte alla tua piccolezza ma anche al tuo valore no e chiaramente allora qui nascono gli assorbimenti gli integralismi di cui dicevamo e ripeto può essere che l'integralismo scientifico non è così dannoso come ciò che provoca il nazionalismo o l'integralismo tipo ISIS eccetera eccetera ma senz'altro rischia di essere ottundente ma proprio rispetto a quello che invece le singole ricerche scientifiche ci dicono degli esseri umani un altro aspetto poi torni te perché così chiudo questo discorso quindi la limitatezza come aspetto come dire positivo iniziatico se vogliamo perché è una strada difficile che ti fa prendere però poi la presa di coscienza del valore ma l'altra cosa anche qui che la scienza attuale soprattutto l'evoluzionismo ma tantissimi ambiti mettono in evidenza è la casualità del mondo o meglio il fatto che nel mondo per mille ragioni che poi ci sono anche le basi scientifiche la teoria del caos piuttosto che gli aspetti ancora più profondi quantistici l'indeterminazione il contingente ciò che è random ciò che è casuale ha un ruolo importante non è onnipervasivo cioè il ruolo del caso o del caos è un ruolo che si integra poi con la presenza di regolarità storiche tutte le ricerche sulla complessità e sulla teoria del caos arrivano a questo punto però è riducibile allora perché anche qui noi dobbiamo avere una lezione perché un atteggiamento antropologico è cercare di eliminare il caso dalle proprie vite cioè l'ossessione del controllo questo va a finire nella pura paranoia del controllo qui ci sono delle patologie che se anche non vengono individuate come patologie dell'individuo però sono elementi diciamo così patologici il un guaio del nostro mondo qual è che per esempio quando noi cerchiamo di implementare certe forme di tecnologia abbiamo paura del caso cioè vogliamo rendere prevedibile controllabile i nostri sviluppi tecnologici come se noi potessimo prevedere in anticipo le infinite situazioni del mondo e qui c'è una polemica il mondo non è così noi siamo esposti al caso noi siamo adesso in tutti questi anni tutti parlano del cigno nero no cioè dell'imprevisto che non può venire nemmeno immaginato no ma io che mi occupo di di complessità da da decenni no questa visione del cigno nero è molto antecedente all'idea stessa no di cigno nero che è stata popolarizzata no è il fatto che noi esseri umani non possiamo anticipare le infinite situazioni del mondo il mondo ne sa più di noi o come dico in maniera più specifica no che eh l'infinità di ordini di possibilità del mondo è superiore all'infinità degli ordini di pensabilità della nostra mente no ecco noi dobbiamo prendere coscienza di questo fatto che la nostra attitudine al controllo della previsione è eh un ottimo eh attitudine perché gran parte della nostra vita se no non 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 andrebbe avanti da questo punto di vista ma è una parte di noi stessi non siamo tutti noi stessi no e quindi dobbiamo anche qui c'è c'è tutto un processo di empowerment della presa di coscienza del carattere positivo dell'imprevedibilità dell'incapacità del controllo come elementi di presa di coscienza della propria identità ma è proprio nel momento in cui io mi faccio carico della natura emotiva e a tratti biologica ereditaria no in quanto essere umano che non è che viene da nulla che viene comunque da un'evoluzione di specie di questa fatica mediamente di tollerare la frustrazione dell'incertezza possiamo dirla anche così eh e poi vado a mettere immediatamente a nascondere sullo sfondo l'incertezza cerco subito di risolverla non mettendola più in discussione l'incertezza arrivando all'estremo di illudermi di poter ottimizzare e controllare tutto come abbiamo visto mille volte quando non solo in ambito culturale ma anche in ambito pratico aziendale manageriale nella vita di tutti i giorni no che cosa ci può dire questo secondo me ci può dire che non voglio risolverla solo a questo punto di vista ma spero che sia un punto di vista stimolante c'è una dimensione pragmatica di natura psicologica cioè se io non mi faccio carico del mio modo di funzionare individuale specifico portatore di certi schemi e tendente che è inserito all'interno di certe predisposizioni di specie homo sapiens io continuerò a ripetere anche se cresceranno la potenza di calco la potenza di controllo della medicina della tecnologia le società speriamo miglioreranno i scenari non sono molto luminosi in questo periodo continuerò come dire a guardare solo in una direzione che quella esterna quella estroversa no senza fare quella necessaria anche necessaria introversione che fa dire ok io certo che devo cercare di risolvere i problemi è certo che devo cercare di una creatività e un ordine di complessità superiore fa parte del dell'incremento anche come si accennava del complessità della bolla nega entropica dentro i sistemi viventi autopoietici ok assolutamente ed è anche il bello della vita ok ma devo magari fare anche i conti col mio livello di incapacità di tollerare la frustrazione delle inciarpezze che magari non è detto che come dire debba portare immediatamente in un agito del controllo del mondo esterno rispetto a accoppiarlo invece a un lavoro anche interno in cui io imparo a danzare con l'incertezza no mi sembra un modo di dire tibetano che diceva forse per non farti male ai piedi invece di illuderti di coprire di pelle tutto il pianeta terra è meglio che ti compri dei sandali no cioè come dire c'è stata anche una hubris no una tracotanza no a un certo periodo soprattutto con l'ottocentesco della scienza e della tecnica che come tu hai detto benissimo poi nel novecento è stata profondamente ridimensionata ma siamo ben superato il 2000 tutti questi elementi messi insieme cosa secondo me cosa ci fanno dire cosa potrebbero farci dire è non è che per fare i conti con l'angoscia esistenziale oltre a diventare migliori medici di migliori ingegneri costruire delle società con maggior diritti e tutte queste cose che che vanno benissime e che ci piacciono anche incominciare a ripensare un modello di sviluppo psicologico dell'adultità in cui per esempio alcune competenze come già avevo forse accennato in altri video metacognitive cioè di consapevolezza delle proprie capacità riducano il rischio di una necessità importante da affrontare viene assolutizzata irrigidita trasformata in un bisogno di controllare eccessivo che da positivo diventa negativo cioè io credo che anche con questo concludo che anche la capacità di relazionarsi col mistero secondo me il nichilismo è una crisi di relazione col mistero non è una soluzione del mistero abbiamo scoperto che il mistero non esiste è un enigma e che l'abbiamo risolto con la scienza no è un mistero quindi abbiamo avuto un problema abbiamo perso la capacità di metterci in relazione con il mistero una delle componenti per metterci in relazione col mistero è prima di tutto conoscere se stessi dal punto di vista psichico individuale e di specie se da quel punto di vista lì non riusciamo a fare un minimo di lavoro non bisogna essere olimpionici in questo è molto probabile che anche la sofferenza di tipo esistenziale venga usata in modo distorto da dinamiche di tipo più psichico personale allora io traduco dal tuo punto di vista nel mio linguaggio che però converge pienamente cioè quello che voglio sottolineare è che per quel che parlo sempre di ben che il discorso dei diciamo delle delle due dimensioni umane no del che chiamiamolo dei due emisferi non solo viene analizzato come potenzialità umana ma c'è anche l'idea che negli ultimi secoli qualcosa è andato storto e che quindi ha preso un'indebita prevalenza un aspetto rispetto all'altro e qui senz'altro non c'entra solo la scienza non c'entra solo la tecnologia bisognerebbe anche fare un po tutta una storia no degli ultimi secoli della modernità in cui per esempio il concetto di nazione o di impero ha avuto una enfatizzazione di tipo religioso probabilmente lo è sempre stato certe cose ma vediamo adesso non le fughe in avanti no tanto per parlare di attualità di putin no voglio dire hanno un elemento diciamo così della religione della santa madre russia perché però quello che voglio dire questo andato storto avrà tante cause però qual è il risultato che le nostre modalità di lavoro di cura di educazione sono tutte segnate dall'ossessione della performatività dall'ossessione dell'efficienza che porta al paradosso del confinamento delle capacità dei singoli individui delle singole persone in ruoli molto ristretti e quindi porta anche a un paradosso di inadeguatezza delle organizzazioni umane stesse che cosa voglio dire siccome nelle organizzazioni umane poi ci saranno delle aziende migliori di altre ci saranno ospedali migliori di altre ci saranno università migliori di altre però il tema dell'efficienza della performatività a tutti i costi è stressato in una maniera esasperante allora è chiaro che chi vive in questi contesti subisce questo stress ma noi siamo persone ben integrate no e il fatto che noi viviamo un linguaggio semplificato performativo come dire in maniera molto errata che ci richiede solo certe parti di noi stessi in maniera molto errata non è che ci annulla le altre dimensioni allora questa è una fonte di fortissima schizofrenia perché non solo noi non ci vediamo realizzati no nel mondo collettivo ma nello stesso tempo ci vediamo anche impoveriti nel mondo collettivo dopodiché allora c'è tutte delle strategie di ambivalenza per cui certe persone ovviamente cancellano magari gli aspetti più ricchi della loro personalità per adeguarsi al ruolo ma questo non vuol dire che li salva dall'onnipresenza dell'interrogazione può portare a grosse infelicità e a grosse crisi c'è chi accetta questa dualità considerando però come dire un contrasto irriducibile tra la dimensione privata o quella pubblica o c'è una minoranza che però dovremmo iniziare a incoraggiare che si pone il problema ma forse se io come individuo come piccolo gruppo accetto questa ricchezza dei valori umani delle mie capacità anche della mia contraddizione non è che posso fare qualcosa per migliorare anche i contesti pubblici e renderli meno ossessivi all'idea di controllo e di previsione a tutti i costi no in qualche modo la nostra è un'età di un'infelicità di fondo perché noi ci rendiamo conto proprio come valore dei singoli individui di essere di più cioè proprio il discorso del senso della vita di quello che ci fanno ricettare i contesti e le narrazioni dominanti dopodiché ci sono ripeto elementi e narrazioni dominanti chiamiamoli integralisti e ci sono elementi e interrogazioni e narrazioni dominanti soltanto di scarsa qualità diciamo che l'azienda funziona peggio o l'ospedale funziona peggio l'università funziona peggio di quanto potrebbe essere se diventa un luogo di empowerment di chi lo compone quindi bisognerebbe fare una cioè bisognerebbe non lo dico come desiderata ma dico come una prospettiva che può anche essere utopica ma che ha che dà un senso una sorta di rivoluzione copernicana che ci dice che attualmente noi anche nelle nostre patologie individuali siamo più ricchi e siamo più dotati di senso delle recite che avvengono a livello collettivo nelle istituzioni nelle organizzazioni umane ovviamente generalizzo molto ma che le rende quindi sottodeterminate e incapaci anche di realizzare certi risultati che invece potrebbero essere realizzati con una maggiore valorizzazione dell'umano a 360 gradi ecco è una prospettiva che ovviamente dovremmo sviluppare molto meglio e nei prossimi interventi ma anche in una ricerca collettiva cioè noi non non ci possiamo ridurre no solo a queste enunciazioni però io credo che sia una prospettiva concreta quali che siano le cause drammatiche per cui siamo arrivati a questo punto un'ultima cosa per chiudiamo io credo che se non in linea con quello che stai dicendo aggiungo un ulteriore spunto credo che se non non tutti devono avere le stesse sensibilità dei stessi talenti quindi va bene così però io credo che ci sia bisogno un incremento di un livello minimo di presa in carico tutto di se stessi e poi delle pressioni significative per quello che si riesce a fare umilmente intorno a noi della propria del proprio piano psichico del proprio piano esistenziale se questo non viene fatto come accennavi tu diventiamo più o meno consapevolmente o inconsapevolmente vittime di quel nichilismo di cui tanto si è parlato dall'ottocento ad oggi che spesso poi in tempi più recenti si è trasformato unicamente nella religione dell'efficienza nel momento in cui io non so in quest angoscia della difficoltà di mettermi in relazione con senso del tutto quanto meno vinco quanto meno nella relazione con te anche se non so se veramente quello che sto dicendo è più vero che ho ragione con questa dimensione anche bellica della delle della dimensione che ci può essere dell'efficienza dell'ottimizzazione che diventa una pseudo metafisica non nichilistica c'è la possibilità di tornare a mettersi ad essere persone pragmatiche che amano la scienza che amano l'ingegneria la tecnologia che hanno voglia di migliorare la vita per sé per gli altri mantenendo un dialogo col proprio mondo interno psichico ecco la domanda di senso e questa cosa ormai cioè secondo me anche la tecnologia stessa ce lo dice cioè la tecnologia ci fa da specchio e dice ma se alla mia altezza vedi l'intelligenza artificiale la la biotecnologia le armi autonome appena vinto l'oscar il film openheimer che parla delle prime grandi angosce collettive dopo lo scopo delle prime bombe atomiche la tecnologia ci dice ci fa da specchio una tecnologia non è soltanto un artefatto al di fuori di noi tecnologia un'ibridazione cioè c'è chi dice che il linguaggio sia un artefatto cognitivo quindi la tecnologia plasma la nostra mente nel nostro cervello quindi una coevoluzione questa ci richiede di farci carico del nostro software semplificazione di stampo di primo cognitivismo e non sempre di essere costantemente proiettati all'esterno ma io che che ruolo gioco nell'interpretare la realtà così che gioca ruolo gioco semplicemente di va bene mentre io nel mio piccolo cerco semplicemente più certezza più guadagno più efficienza poi nell'effetto di queste modalità che magari poi nell'ambito aziendale si trasformano in micromanagement si trasformano in comportamenti poco etici per non parlare poi a delle dimensioni più ampie sociali e politiche ecco come già accennavano diversi autori nel secolo scorso la sfida oggi è principalmente secondo me poi avrò i miei bias cerco di rendermene conto ogni giorno è in gran parte forse principalmente troppo in gran parte di tipo psichica perché poi ha tutte poi queste conseguenze allora per chiudere aprire il discorso della prossima volta io voglio enfatizzare una cosa che hai detto te sì piuttosto anpassa ma che invece è importante che non tutti abbiamo le stesse capacità gli stessi desideri le stesse inclinazioni eccetera eccetera ma che cosa abbiamo in comune la necessità di un processo di individuazione per cui dobbiamo diventare consapevoli delle nostre capacità dei nostri obiettivi delle nostre limitatezze se vogliamo in in un termine che che è giusto levato dagli aspetti metafisici no che può significare ma del nostro destino del nostro karma no c'è un nucleo del percorso individuale che noi dobbiamo scoprire che non è dato all'inizio ecco questo è un obiettivo comune a tutti gli umani no allora la domanda di senso diciamo è se non è possibile un mondo in cui gli umani rispettandosi nella loro diversità sostanziale perché ognuno ha certe doti diverse ognuno ha degli obiettivi diversi non si possono aiutare in questi percorso individua riconoscendosi a vicenda supportandosi nelle singole processi di individuazione invece di combattere quello che dicevi te il gioco vinco io e perdito che poi ti porta alla fine a essere tutti vittime no perché appunto sta lì il primato della dimensione psichica che te puoi anche vincere qualcosina nei giochi un po perversi delle tue organizzazioni dico perversi non in senso morale ma insomma che lasciano un po il tempo che trovano poi dopo avere un altro che fa un gioco migliore del tuo e te da vincente diventi vittima non è un gran risultato questo allora è molto meglio accettarsi nella diversità individuale e però aiutarsi reciprocamente rispetto a obiettivi che sono diversi l'uno con l'altro ma che ti aiutano a vivere insieme meglio no allora a me viene in mente una cosa che edgar morain celebriamo adesso che va verso i 103 a vabbè lui fa un discorso teologico che anti teologico che è una metafora sua no ma parla del vangelo della perdizione e per dire una base alla solidarietà umana ora qual è invece io lo dico in positivo no di questo vangelo della perdizione semmai è un vangelo del valore positivo della limitatezza che siamo tutti diversi abbiamo tutte delle sfide psichiche diverse perché ognuno di noi da assolutamente sulla base neurologica la sua esperienza siamo geneticamente diversi epigeneticamente diverse quindi nessuno ci leva le castagne dal fuoco nel nostro processo di individuazione però possiamo aiutarci ed è meglio aiutarci e dare valore alle nostre organizzazioni piuttosto che rendere alle organizzazioni il terreno di scontro che poi lasciano assolutamente il tempo che trova ecco credo che questa è un'agenda no per continuare i nostri discorsi e colgo la palla al balzo e probabilmente vediamo il prossimo video sarà proprio dello sviluppo di questo processo individuativo e la mia matrice giunghiana non può che esserne felice perché se non ci facciamo carico poi vedremo come si articola questo costrutto se non ci facciamo carico della nostra individuazione alla fine sarà il mondo a decidere per noi o schiacciandoci su una dimensione collettiva di natura sociale e culturale o su una dimensione collettiva biologica che va bene anche così diciamo che parte della sfida e dell'avventura umana è proprio questo processo di individuazione che diciamo va bene io direi che per oggi possiamo salutarci salutiamo e andiamo avanti nell'avventura alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti